Tra uno sguardo, tra uno scorcio e l'altro individualizzo sempre più la zona. Guardare in basso dove io sono. Stanno facendo i bagni. Ottimo, oggi fa caldo, bellissima giornata. Ho fatto questo sentiero che mi porta su in montagna. Ma ancora non vi dico il nome della zona in cui trovo. Io mi trovo perché è troppo bella. Tengo segreto, come tutti i miei YouTube d'ora in avanti saranno segreti. Guardare quella galleria là, guardare la strada laterale della strada vecchia che porta a una città di fronte. Avete già capito dove io mi trovo. Occhio qui a non scivolare perché io scivolo. E' primavera, c'è bel tempo, si vede, si vede. Faccio questo bel viottolo che mi porta giù verso la stazione. Poi tra una fermata sono a una stazione molto importante. Nominata in tutta la Lombardia. Che si può dire in quella città arrivano tanti, tanti stranieri a far compere. I tedeschi, qua sono vicino a un paese dove si nota la differenza tra Italia e Svizzera. Grandisco ancora di più l'obiettivo per far vedere il panorama visivo che ho di fronte a me. Poi guardare qua dove sono e stare attento Aldo di non prendere una bella scivolata. Sempre con questo YouTube, YouTube che guarda in alto, che guarda questo cielo meraviglioso che sotto questo cielo c'è un piccolo paese chiamato Colmenia.